Buonasera a tutte le famiglie, grazie di essere qua, ma soprattutto l'applauso che non va a me, ma va a quello che non battessimo ufficiali, non è un progetto tecnico, è un progetto che noi inseriamo veramente a portare avanti. Due giorni di studio, due giorni di studio con gli allenatori, ieri, stamattina di 9 e mezza qua, abbiamo provato delle cose e quello che è la filosofia, le linee guida che noi vogliamo portare, quanto di no, lo sia la verità, gli amorettori grandi applausi, prima gli attori principali, i miei colleghi che... Non è una sfiorinata, io sono una persona che regala poco, ma gratifica tanto, perciò devo dire che qui, vi tenetevi fortunati, ci sono delle persone veramente che hanno capacità, competenze, si sono messi in gioco, hanno capito che comunque nella vita c'è sempre da mettersi in gioco e questo sicuramente dà la possibilità di costruire ai tuoi progetti importanti. Oggi, a me personalmente, è molto bello che ho fatto due giorni, magari anche alle volte, è anche più basso, comunque non è facile, ognuno ha messo le proprie esperienze, ma per me oggi ho visto il gap che mi interessava, la mentalità di un istruttore che trasmette ai ragazzi, non solo te, ma i tre ingredienti che sono fondamentali. Perciò, di quale sarà la prima priorità e l'esigenza che noi porteremo sui campi? Quello di creare l'attenzione, e lo dico subito, non preoccupatevi, esse ogni tanto, non è che li sgridano, richiamano l'attenzione, perché ci sono due cose diverse da sgridare, ok? Cioè, questo è un metodo, un metodo che è fondamentale. Io l'ho già detto, lo dico sui giorni in giro per l'Italia, andrò i miei incontri con le famiglie, i ragazzi vanno solo stimolati, come tutte le cose della vita, questo a loro piace, allora io pretendo che loro pretendano qualcosa in più, perché tanto lo possono dare, che non è solo tecnico o motorio, l'aspetto cognitivo di un ragazzo fa la differenza, ma nella vita è in tutti i giorni. Perciò questo sarà un primo obiettivo di condivisione che noi oggi abbiamo già messo in pratica, che non vuol dire sostituire loro, ma è un piezo che dobbiamo costruire insieme. Perciò, veramente, è un po' più migliore a tutti, perché le famiglie sono loro, stamattina i signori ci sono allenati. Sì, ve lo posso garantirlo. Quello che hanno fatto fare oggi ai ragazzi, stamattina l'hanno fatto loro, perché è una conseguenza. Un insegnante, anche a scuola al mattino, se insegna matematica dovrà conoscere la matematica. Se noi insegniamo calcio, dobbiamo anche conoscere le gestualità, la comunicazione adeguata e giusta, di stimolo per sei anni, otto anni, dieci anni, quattordici. È chiaro che il culturale è diviso da un metro di comunicazione leggermente più autodontale, perché chiaramente bisogna prendere. Perché non c'è dei bambini di sei anni. Allora, alzate il livello, lo ho detto, alzate il livello, e fra due mesi vedrete la differenza, come tutte le cose, l'apprendimento più, ripeto, più migliore. Come a scuola, tutte le materie. Non si scappa, eh? È scienza, è disoluzione. Perciò, veramente, molto gratificato, due giorni col canchi. Come ha detto Andrea, ci saranno tante altre giornate, ma non solo quando arrivo io, ma domani. Ci sono loro e ci sono loro. Questa è la strada. La ritenete? Perché oggi abbiamo avuto un feedback di risposta a se sto sbagliando. Se sto sbagliando, ognuno di loro, con le loro abilità, capacità, hanno evidenziato, attraverso una ripetizione elevata di un qualcosa, un miglioramento importante. Ma questa, è fisiologico, è natura. Più ripeto, più migliore. Perciò, tutti hanno il diritto di sbagliare, tutti hanno il diritto di giocare, tutti hanno il diritto di diventarsi. e questo sarà un passaggio fondamentale che il Torino va a divulgare all'interno dei propri porti. Cioè, siete stati? No! Io vi dico che invece avete anche faticato, mi fa piacere sentire che non siete stati. Perciò questo è il passaggio. Mi siete divertiti? Sì! Ecco, perciò da qui è il passaggio che vi ho detto. il piacere di essere attenti. Lui oggi non è attento. Il tuo amico fiatto. Tu, tu, se tu ti immaginierai la testa. Sì! Perci questo fa la differenza. Sono sicuro che tu in classe quando parla l'insegnante tu sei distratto. Sono dottore in psicologia e pedagogia anche. Perciò non è che parlo a barbara. Dalle conoscenze di ogni uno di voi è la mia materia. Poi magari di caccio capisco poco. Non è vero. Però, voglio dire, questo fa...